La nuova ordinanza numero 7 del 10 marzo 2021, a firma del presidente Vincenzo De Luca, dispone limitazioni alla mobilità e alle attività dei mercati, con decorrenza dall'11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, salvo che nella fascia oraria 7.30-8.30 è disposta la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso, mentre con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, i vi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alla vendita di generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, purché provvisti di servizi igienici e autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e alle altre attività consentite sul territorio regionale dal DPCM del 2 marzo 2021. Nell'ordinanza, inoltre, si raccomanda ancora una volta alla popolazione di evitare assembramenti e ai datori di lavoro pubblici e privati il ricorso alle percentuali più alte possibili di modalità di lavoro agile.